Il segreto, puntate spagnole. Il grande dolore di Rosario. Anticipazioni. Notizie davvero tragiche giungono dalle anticipazioni il segreto. La madre dei Castaneda subirà l'ennesimo colpo al quale potrebbe non sopravvivere. Anteprima. Le anticipazioni il segreto sulle trame delle puntate spagnole informano di un evento drammatico che colpirà gli abitanti di Puentevierio. Rosario, la coraggiosa madre dei Castaneda, che dopo aver superato tanti momenti difficili ed aver affrontato grandi dolori si arrenderà inevitabilmente ad un destino crudele che le riserverà il più grande dei dolori. Che cosa accadrà dunque alla ex domestica di Francisca? Prima parte delle anticipazioni. Lutto a Puentevierio. Rosario dovrà fare i conti con il dolore più atroce che possa toccare in sorte ad una madre, quello della morte di un figlio. La donna perderà infatti la sua adorata Mariana, che scomparirà in circostanze misteriose lasciando la famiglia nella più completa disperazione. Fin da subito Rosario, e con lei tutta la famiglia Castaneda, sospetterà dell'atteggiamento vavo e sfuggente di Nicolas, arrivando a ritenerlo responsabile della morte di Mariana. I sospetti verranno poi confermati quando Rosario avrà occasione di leggere alcune lettere scritte di pugno di Mariana quando si trovava a Murcia e spedite a Puentevierio, nelle quali la giovane affermava di non fidarsi di suo marito e di avere la certezza che sarebbe accaduto qualcosa di drammatico. Seconda parte. Pena inconsolabile. In conseguenza della morte della figlia, Rosario cadrà in profonda depressione, e non avrà più stimoli né voglia di reagire. La donna si spegnerà giorno dopo giorno, ed arriverà a lasciarsi morire. Di fronte alla bulia di Rosario e dalla debolezza fisica che subentrerà, e che la porterà addirittura a perdere i sensi più volte al giorno, Lucas non potrà che confermare che la situazione è piuttosto seria. Per la povera donna sembrano non esserci speranze, nonostante la abbia superato esperienze drammatiche, come per esempio una brutta epidemia o il ferimento subito per salvare il figlio Alfonso. Questa volta, però, lo stato d'animo già ha una componente essenziale. Rosario è stanca e addolorata, e sta rinunciando a combattere. Ultima parte. Rinuncia alla vita. Sempre più debole e stanca, e convinta che per lei sia ormai arrivata l'ora dei titoli di coda, Rosario pregherà Fè di andare a chiamare don Anselmo. Il sacerdote non mancherà di andare a dare una parola di conforto a colei che, per giunta, è sempre stata una buona cristiana. Purtroppo le notizie sono tutt'altro che buone. Uno sconvolto Anselmo comunicherà ai parenti di aver ricevuto da Rosario una richiesta veramente drammatica. La donna ha infatti chiesto al prete di somministrarle l'estrema unzione. È arrivato dunque il momento dell'addio alla amatissima governante? Presto la risposta a questa angosciosa domanda. Appuntamento dunque alle prossime anticipazioni del segreto. Appuntamento dunque alle prossime. Grazie.